Michele, 82, Roma, Gerone, Federico, 56, Lazzarini, Giacomo, 59, Faraonia, 51, Bianchi, Gianmarco, 60, Genuario, Mattia, e 55, Brambilla, Cristiano, Giulio. E la finale del 400 in linea, giovanissimi due maschi. E la finale del 400 in linea, la testa della quale si pone il leader della categoria cremaschi, Andrea, in seguito chiaramente da tutti gli altri finalisti in gara. Viviamo insieme questi 400 metri in linea per questa finale riservata alla categoria giovanissimi due maschi. Sempre il leader cremaschi riesce a mantenere la testa della gara e lui a determinarne i tempi in questo frangente di gara. Le vediamo l'uscita e il gruppo molto presumibilmente si aprirà per la valuta finale, per lo sprint ultimo e conclusivo all'unico sforzo del gol di questo gianguardo. Grazie a tutti!